Cominciamo come sempre con la nostra preghiera, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore risorto sia con tutti voi. Il Signore risorto sia con tutti voi. L'efficienza della tua grandezza attraverso quello che riterrai più opportuno per le nostre strade, per i nostri percorsi. Chiediamo anche che benedica questo incontro e che ci dia la possibilità di cogliere quanto c'è di meglio per noi, attraverso le parole anche del relatore Don Valentino e della nostra condivisione. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso spegniamo questa luce. Lascio la parola a Don Valentino. Bene, ben trovati anche chi di voi l'anno scorso ha avuto il piacere di conoscere. Questa sera è un incontro anche abbastanza pratico, perché vuole essere di spunto, suggerimento a quanti di voi fanno sia catechesi con i ragazzi, ma anche quelli che sono chiamati a fare e tenere gli incontri con i genitori. Sono tre i sacramenti sui quali ci concentriamo, quindi sono tre i punti che toccherò. Il battesimo all'inizio, al centro la confermazione che è continuazione del battesimo, e soprattutto vedremo di capire qualcosa in più sull'Eucaristia, e vedendo nell'ultima cena i tipi, cioè le modalità precise, espressive, che l'arte ha usato per spiegare il mistero della fede. E vi parlerò anche dell'ultima cena di Leonardo da Vinci, che è famosa, famosa, ma che però resta lì. Si sa com'è, ma non si sa, non si conoscono tutti i significati nascosti. Comincerei così proprio a bomba, guardate questo politico, è un trittico, sono tre, però raccoglie insieme tutti i sacramenti, i sette sacramenti della nostra fede cristiana. L'autore è un autore nordico, si chiamano Fiamminghi, è un'opera, una tavola di legno a olio. Roger van der Weyden, siamo nel quindicesimo secolo. E in questa opera, dopo ci saranno alcuni zoom particolari, a partire da sinistra troviamo il battesimo, qui in basso, dove c'è un bambino che viene battezzato, più sopra la cresima, vedete che c'è un ragazzo di rosso vestito, dove c'è un vescovo che sta impartendo la cresima, sopra, in fondo, la penitenza, nella confessione, al centro, ma dovete guardare questo centro, c'è la messa, quindi un insieme, l'eucarestia è al centro, e davanti, torno indietro, davanti al momento dell'eucarestia c'è l'ultima, c'è la crucifissione, quindi questo connubio sarà da tenere presente. Per capire la messa, occorre tenere presente che cosa sia la messa, quindi la croce di Cristo. Continuando poi sulla destra, vedete che c'è l'ordine sacro, qui in questo punto, poi il matrimonio e l'unzione degli infermi, dei malati. Noi questa sera ci concentreremo sul primo a sinistra, sul secondo e su quello centrale, perché vi dicevo che è importante tenere d'accordo il connubio tra eucarestia e crocifissione, perché quando parliamo di eucarestia, di comunione, di messa, se non teniamo conto che cosa sia la croce e quindi il sacrificio eucaristico, perdiamo di vista il nucleo fondamentale. L'arte ha sempre avuto molto facile, molto ferma la convinzione che non è data da qualcuno in particolare, ma è intrinseca, essa stessa è così. La messa non è un circo, è un momento di morte e di risurrezione. Se voi fate caso, se vi capiterà di ascoltare i canti antichi della messa di Pasqua, non sono per niente allegri. Voi conoscerete il Victime Pascali, l'avrete sentito? Vi pare allegro? Victime Pascali laude simmolen cristiani, sentite come è cupo anche. Agnus rede mitoves. È cupo non perché sia triste, ma perché come dice San Paolo, i cristiani credenti sono quasi tristes semper autem gaudentes. Cioè sono come se fossero tristi, ma sempre gioiosi. Perché? Perché siamo crocifissi. Il nostro amore è un amore che rischia sempre di essere frainteso. Il nostro modo di essere nel mondo è sempre sotto sguardo di tutti, sotto l'accusa. la fede non è facile, ma sapendo che la messa è il sacrificio di Cristo incruento, cioè dove non viene spargimento di sangue, ma è un sacrificio, principalmente un sacrificio, l'arte ha saputo mostrare questa verità tramite le sue tavole e le sue immagini, comprese gli affreschi. Tanto che, ma ne riparleremo dopo, quando parleremo dell'Eucaristia, prima di trovare la deposizione di Cristo troviamo l'ultima cena e nel discorso, nel dialogo con i protestanti, ciò che troverà più strada, più facile strada per parlare di unità tra cattolici e protestanti sarà proprio l'ultima cena. Perché il tema della deposizione e della crocifissione rimarrà il tema della cosiddetta controriforma. Quindi Roma userà la deposizione di Cristo per affermarsi. Invece la cena, come ancora i protestanti hanno, sposta l'attenzione dal sacrificio al banchetto, al mangiare, che non è sbagliato. Però se assolutizzo il banchetto, il momento della comunione, anche la parola lo dice, e perdo di vista il sacrificio, perdo una parte. È entrambe le cose, è sia sacrificio che banchetto comunione. E se c'è il banchetto, è perché quel banchetto, in quel banchetto, c'è qualcuno che si sacrifica. Qui vedete più vicino, potendoli apprezzare, il battesimo. che cosa fa l'autore che vi ho detto essere un fiammingo? Elabora nella sua opera il concetto di, si chiama in latino, devozio moderna. Cioè, guardando queste immagini, lo spettatore, il credente, non doveva solo guardare come in un museo una bella opera, ma immedesimarsi. Più io mi immedesimo dentro un mistero dipinto, qui uno ma sono sette, ciascuno di questi sette, magari sette e mezzo, con il crocifisso davanti, è un insieme di verità. Più mi immedesimo, più lo vivo. Tant'è che la stessa architettura ti porta dentro. Imparare a fare arte e fede significa, prima di capire che cosa è raffigurato, questo è un metodo per capire le immagini, bisogna cominciare a dire che cosa si vede. La lettura si chiama pre-iconografica. Cioè, prima di dire quelle sono le madonne, le donne, c'è la madonna che sta quasi svenendo ai piedi della croce di Cristo, alcune donne con un uomo che sorregge una figura che veste di azzurro, questa è la lettura pre-iconografica, senza dire che è Giovanni o chi per lui. Dentro una grande cattedrale avvengono diverse cose agli altari laterali. Quindi quando con i ragazzi voi proponete, o ai genitori anche, come faccio io adesso, proponete qualsiasi immagine sacra, fate la fatica con loro di dire che cosa vedete, non che cosa significa, ma cosa vedete. Continuando il giro, da sinistra a destra vedete in alto, in quella piccola figurina, c'è un vescovo che fa la comunione a una persona che è stata ordinata, all'ordine sacro, due persone giovani, una donna che veste di rosso e che si sposa, mette l'anello a un uomo, anche lui di rosso vestito, e qui davanti in primo piano un chierico assistito da un prete che curano un malato con un pezzettino di cotone toccano la sua mano. Curiosità sui colori. I colori sono più o meno tutti simili, bianco, rosso, vedete la dominante, dominante è rossa, con un bianco di fondo che aiuta l'architettura a emergere un po', da molta aria. Il rosso è da sempre stato il colore del sangue. La sposa anticamente vestiva di rosso. Alcune madonne, compresa quella che Raffaello ha dipinto nello sposalizio con Giuseppe, veste di rosso. Smetterà di vestire il rosso quando verrà l'unione con l'Immacolata Concezione nell'idea, perché poi è recente come come statuto nel 1800, però prima c'è sempre stata la credenza nell'Immacolata Concezione, ma l'idea della virginità nella purezza sposta l'attenzione dal rosso al bianco. Però prima ancora di essere rosso il colore femminile era blu, perché blu è il manto mariano. L'avete visto prima? Qui davanti la Madonna è blu. Come mai è blu? È una parentesi perché con i ragazzi fa anche bene questa cosa. È blu perché dal XII secolo il Dio che abita i cieli, i cieli sono blu, diventa blu. Il Dio cristiano è un Dio azzurro. Questa divinità che abita i cieli, che entra in una donna, la veste di se stesso, la veste di blu. Mi seguite? Maria veste quindi di blu, è il suo colore, è rivestita di Dio. Blu, il blu è il colore della divinità. anche se alcuni iconografi dicono che sia il rosso. Però vi do nell'icone i due colori sono il blu e il rosso. Però vi do proprio la teologia del sangue, quindi della terra. Quindi il contrario, il Cristo maestro veste il blu e il rosso perché il blu è la divinità e il rosso l'umanità. Le due nature. Maria veste di blu, Dio l'ha rivestita, è entrato in lei senza spezzarla, senza cioè togliere la virginità. Questo colore si riverbera dapprima nei cieli di Giotto che è il pittore dei francescani e da questi cieli delle cupole, delle chiese, va a riflettersi sui manti principalmente dei francesi che avevano il giglio dorato su un fondo blu. Tutte le cupole islamiche di che colore sono? Quasi tutte, tranne quella dorata. blu perché il Dio anche Allah è un Dio dei cieli, è un Dio blu. Quindi questo tema del colore ritorna in modo molto curioso. Due sole slide e poi passo al battesimo perché quando vi capiterà di parlare del battesimo date, offrite una cosa simile come questa. Che cos'è un sacramento? Non diamo niente per scontato. vorrei non darle neanche io per scontato. Sacramento è una parola greca. Significa segno concreto di qualcosa di grazia. Quindi da questa parte a sinistra è un segno concreto che si può vedere, toccare di qualcosa che questo qualcosa si chiama grazia di Dio che è una cosa perché la nostra anima sia salva, anima e corpo salvi. Essendo un segno concreto di grazia realizza una realtà sensibile e visibile. In ogni sacramento c'è questo aspetto. L'acqua nel battesimo è questa realtà sensibile, visibile. il pane eucaristico con il vino sono realtà visibili e sensibili. Quindi vivono di materia, forma e di un ministro. Ogni sacramento ha bisogno di queste tre anime, tre pilastri. Che cosa fa? Grazia produce realmente qualcosa di invisibile. Partiamo da una realtà visibile e sensibile ma viene prodotto un effetto invisibile. che però la fede vede. I miei occhi non vedono il corpo e il sangue. Quando faccio la domanda mi capita di fare ritiri anche ai ragazzi grandi dico ma secondo voi è un modo di dire che mangiamo il corpo e il sangue di Cristo? Tutti sì è un modo di dire perché in realtà mangiamo è solo pane e solo vino ma in realtà no, è proprio corpo è proprio sangue e come mai voi non bevete il sangue faccio apposta e solo il prete beve al calice il sangue questa domanda più sottile più difficile ci pensano un po' non rispondono perché lui è il prete perché può bere il sangue noi non possiamo ma non abbiamo detto che quel corpo è un corpo vivo se è un corpo vivo vuol dire che il sangue circola come nel nostro io il sangue ora non lo vedo però so che c'è se mi taglio un dito il sangue esce seguite idem nel vostro corpo quindi assumere un corpo vivo la sola particola è un corpo vivo quindi in quel corpo c'è anche il sangue ma la pienezza della comunione che il prete ha all'altare esige una comunione totale sotto le due specie in qualche occasione si può fare la comunione sotto le due specie a tutti però tutti riceviamo il corpo e il sangue anche nella sola particola e per precisare qualcosa di più di questi sacramenti e poi passiamo proprio all'analisi entrando anche in qualche curiosità spero di regalarvi qualche cosa che magari non ci si faceva caso prima i sacramenti sono segni che vivono di gesti e parole efficaci producono cioè qualcosa del mistero di salvezza di Cristo quindi esistono per salvarci Cristo li ha voluti ce li ha offerti per darci la salvezza la domanda ma come perché non si aspetta a dare il battesimo al proprio figlio quando è grande ecco la qui la risposta una delle tante perché io genitore so che donando il battesimo gli do una cosa altissima che è più alta di me che supera me nella mia testa so che dà la salvezza e se mi è permessa un esempio personale alcuni amici esorcisti mi dicevano che andando a Lourdes quando avevano dato il battesimo ad alcune persone che non l'avevano ancora ricevuto ed erano indemoniate ricevuto quello il demonio è scappato similmente con la cresima alcune ragazze che mostravano un po' di disturbi del demonio ricevendo la cresima avevano risolto il loro problema dopo aver girato Italia per tutti i problemi medici che non trovavano sono voluti da Cristo quindi nella Bibbia nell'Evangelo noi troviamo la fonte di ognuno di questi sacramenti per dire non è invenzione della Chiesa ma di Gesù e da ultimo sono efficaci in se stessi non è che se io sono peccatore la mia messa vale meno o più della sua per fortuna perché questa cosa che è stata ratificata almeno 600 anni fa per il problema degli eretici delle eresie nel Medioevo quando si accusavano i preti di non essere validi o perché avevano comperato il sacramento o perché si comportavano in modo moralmente lontano rispetto al loro ufficio il sacramento dicevano non vale ma dire così significa dare più forza alle mani del prete rispetto alla grazia nascosta nel sacramento che per fortuna vale in se stesso Primo Mazzolare ha avuto un bellissimo scritto a questo proposito dice voi popolo fate sempre più attenzione alle dita che sorreggono l'Eucarestia guardando alla persona che ha quelle dita quindi a lui a me ma perché non facciamo attenzione non dico alla luna rispetto al dito ma al Dio rispetto all'uomo bellissimo lo stolto quando uno gli indica la luna guarda il dito e non guarda la luna lo canta anche Branduardi battesimo quanti di voi hanno a che fare con il tema del battesimo terzo anno quindi secondo in modo preciso alcuni di voi in realtà tutti avremmo dovuto alzare la mano per tutti i sacramenti però in modo precipuo queste persone battesimo voi saprete che deriva dal verbo greco bapto che vuol dire immergere battesimo battezzare vuol dire immergere qualcuno dentro qualcosa se vi ricordate per le slide di prima sulla realtà visibile sensibile noi immergiamo dentro qualcosa di visibile che sarà l'acqua ma la vera immersione dentro quel segno visibile sarà molto di più sarà un qualcosa di invisibile cioè Dio in Dio nel figlio diciamo un adagio che si lega spesso al battesimo è noi siamo figli nel figlio questa frase è talmente importante perché ci dà l'effetto principale del battesimo che spesso dimentichiamo non è solo il cancellare il peccato originale ma soprattutto diventare figli qui Don Davide si apre una bella domanda nel senso che le persone che vivono al mondo sono tutti figli di Dio qualcuno dice sì qualcuno no e facciamo di no va bene chi allora chi è figlio e chi non è figlio perfetto bene esatto chi è battezzato è figlio di Dio ha ottenuto la figliolanza di Dio tramite l'immersione nella vita di Gesù chi non è stato battezzato non è figlio ma è creatura vi sembra un'ingiustizia? non ci sta Gesù ha mandato i suoi nel mondo dicendo battezzateli per salvarli chi è creatura non è che ha avuto chissà quali peccati e quindi non è ritenuto figlio ma altrimenti non si spiegherebbe perché uno deve ricevere il battesimo o uno no è proprio un titolo noi nel battesimo riceviamo l'unico titolo che ci permette o ci obbliga diciamo così ci obbliga a ricordarci di fronte a Dio che noi siamo suoi figli che riceveremo in quanto figli l'eredità di figli ma chiaramente le maniche con noi saranno più strette in quanto figli rispetto a chi è creatura non leggete la cosa come un'ingiustizia ma come un dono in più chi ha ricevuto la figliolanza ha ricevuto in più chi di voi più ha ricevuto più sarà richiesto a chi molto è stato dato molto sarà chiesto gli altri che non per colpa loro non hanno ricevuto il battesimo ma ormai l'azione missionaria nel mondo è arrivata davvero ovunque anche se non tutti sono stati battezzati è partita proprio da Gesù andate fate discepoli battezzando perché desidero che siate tutti salvi non tocco il tema della salvezza anche nelle altre religioni perché non ci compete ma comunque si salvano se seguono determinate le loro regole della loro religione a patto che non conoscono Cristo e se si salvano si salvano per Cristo non è che si salvano in se stesse perciò primariamente vuol dire immergere in modo secondario lavare da qui deriva il lavacro il togliere il peccato originale come effetto dell'immersione l'arte cosa ha fatto nei primi secoli ha dipinto ciò che vedeva questa immagine è un affresco c'è Cristo al Giordano e l'acqua giunge almeno sopra l'ombelico sotto il petto proprio l'immersione nelle acque il battesimo è stato dato prima ai popoli adulti e poi questi popoli adulti cominciavano dai bambini che comunque venivano immersi in queste piscine in queste fontane l'immersione la vedevate bene anche tramite i dipinti Giotto che lui sceglie di mostrarci il battesimo come un'immersione nelle acque non due gocce d'acqua sulla testa le cose cambiano quando andando avanti nel tempo qui siamo alla fine del 1400 Cristo al Giordano con Giovanni il Battista è sopra uno specchio d'acqua l'acqua ormai è solo quasi per ricordare che comunque è un battesimo altrimenti non si capirebbe siamo nella Cappella Sistina con quest'opera c'è il Spirito Santo perché c'è la colomba sopra la testa e il Padre quindi la Trinità è presente uno specchio d'acqua ancora meno nell'opera di Piero della Francesca dove questa acqua nemmeno tocca i piedi ma si ritira per poi ripartire perché c'è un motivo preciso siamo anche in un ambito particolare con questo pittore che è molto anche criptico nelle sue opere Cristo non poteva essere riflesso nelle acque vedete che le altre cose vengono riflesse più dietro è talmente unico Gesù che non poteva avere un doppione nelle acque quindi tutto ha un perché questi tre a sinistra la Trinità che assiste interpretata come Trinità perché con lui ve l'ho detto ci sono molti le ipotesi sono sempre aperte qualcuno ha voluto vedere anche dei dischi degli UFO dentro queste queste nuvole ma lì avevano bevuto secondo me un po' troppo comunque il passaggio l'avete visto è molto chiaro prima le immagini l'arte hanno documentato come era il battesimo nell'antichità proprio immergendo entrando nell'acqua davvero con il corpo e uscendo e ora vedremo anche il perché venendo avanti negli anni mutando la forma del battesimo muta anche l'arte qui siamo a Milano è un battistero quello che resta a livello archeologico di San Giovanni alle fonti è il primo battistero che troviamo inventato da Sant'Ambrogio Ambrogio diventa vescovo di Milano nel IV secolo per elezione era un tribuno romano non era un prete venne eletto vescovo per la sua capacità di governo per riuscire perché sapeva mettere d'accordo le varie fazioni e aveva un altissimo senso di fede e venne eletto per acclamazione vescovo e lui inventa un modulo nuovo per il battistero qui sono i lavori durante la costruzione della metro negli anni 60 del 900 sotto nella piazza del Duomo questa è una ricostruzione del battistero di San Giovanni alle fonti voluto dal vescovo Ambrogio sono otto lati tre gradini per entrare e tre per uscire otto lati qui c'è tutta una simbologia dei numeri l'otto è il numero un numero particolare che viene dopo il sette il sette è un numero che insieme al tre ricorda la perfezione ricorda il divino ci può essere qualcosa di più rispetto alla perfezione? l'otto cosa sarà quel di più dopo la perfezione? facendo anche riflettere genitori i ragazzi su questa domanda che magari vi passano così tra le orecchie ma guardate che ci si può passare sopra anche dei bei quarti d'ora eh ci può essere una cosa in più rispetto a ciò che riteniamo perfetto? certo ciò che non ti aspetti ad esempio la novità che giorno risorge Cristo? l'ottavo giorno nessuno si aspettava una vita dopo la morte dopo il sette l'otto questa è la cabala ebraica che rilegge dentro questa questi depositi di significati ciò che non ti aspetti è il di più quindi la vita nuova il nuovo che arriva tramite il battesimo è il dono assoluto di figlio della figliolanza quindi otto lati perché l'ogdoad è chiamata l'ottava è ciò che come poter dire fa riflettere fa ripercorrere in otto giorni quell'unico giorno che è la risurrezione tre gradini per entrare e tre per uscire perché Cristo è rimasto nel sepolcro tre giorni scende negli inferi diciamo questi tre che poi non sono esattamente tre ma non fa nulla nella liturgia è questo simbolo che conta tre per entrare tre per uscire la nuova vita che tu acquisti sei una nuova creatura anticamente veniva dato un nome nuovo a quella persona che veniva battezzata l'acqua si entra nell'acqua l'acqua è sempre duplice come significato positivo e negativo ditemi un significato positivo dell'acqua di seta i popoli antichi costruivano le civiltà lungo l'acqua da vita senza acqua si è aridi ditemi un significato negativo dell'acqua distrugge fatemi un esempio dell'acqua che distrugge il diluvio sapete come erano fatti forse l'avevo detto a voi l'anno scorso come erano fatti gli arcobaleni come erano dipinti gli arcobaleni antichi di due colori non di sette da Newton vengono dipinti di sette colori ma prima erano di due blu e rosso il blu ricordava le acque del diluvio che aveva lavato spazzato via e ucciso molti e il rosso come giudizio finale che attendeva i popoli salvati quindi è simbolico è un arco simbolico poi diventerà di tre poi di quattro di cinque infine di sette quindi otto lati tre gradini l'acqua significato positivo e negativo vi ho messo questo grafico che pone al centro il battesimo e intorno tutte le realtà che conferisce il battesimo non c'è solo togliere il peccato originale anche quello nella purificazione ma c'è la nuova nascita si viene rigenerati figli nel figlio nuova creazione prima eravamo morti eravamo come morti lontani da Dio divenendo suoi a tutti gli effetti otteniamo in eredità lui stesso voi siete miei e così facciamo un salto nella cresima confermazione i due termini li conoscete chi di voi ha a che fare con questo tema più da vicino per la catechesi questo gruppetto di tre cresima fa riferimento al termine Cristo crisma l'unzione invece confermazione è perché si conferma ciò che c'è già facendo la cresima confermazione non ricevo lo spirito santo in più che mancava al battesimo ma quello stesso che ho ricevuto nel battesimo che ora confermo io si usava l'affermazione di diventare soldati di Cristo quindi qui troviamo sempre nell'opera che ho usato nell'apertura la seconda da sinistra questo ragazzo che viene unto sulla fronte dal vescovo guardate mi ha sempre colpito questo numero di lumengensium l'avevo letto anche nel preparare i ragazzi alla cresima presenti i loro genitori e i padrini col sacramento della cresima i fedeli vengono più perfettamente vincolati è un verbo bello tosto alla chiesa sono arricchiti di una speciale forza dello spirito santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e difendere con parola e opere la fede come veri testimoni di Cristo accidenti siamo vicini a questa realtà secondo voi la si sa però no cioè chiedo si sa che chi arriva a chiedere la cresima perché penso che anche tu chiederai ai ragazzi di fare una sorta di domanda dove io chiedo di accedere di fare la cresima più o meno ecco l'anno precedente uno con la coscienza che ha perché quinta quarta elementare prima media vabbè comunque non è come me e te credo in terza media o come voi che non eravamo ancora grandi però qualche anno in più l'avevamo ma al di là di questo siamo un po' distanti perché qui si parla di vincolo strettamente obbligati lo richiede il sacramento stesso guardiamo l'arte cosa cosa ci offre due sono le tipologie legate alla confermazione che ho scelto per voi così che magari a casa se ricorderete due o tre cose sarà anche più facile a sinistra c'è il gruppo degli apostoli sotto al centro di questo convegno di questa panca a sigma cioè a u a ferro di cavallo ci sono delle testoline più piccole sotto due figure con un cartiglio dall'altra parte una figura femminile si vedono infatti i seni che veste di blu sotto delle persone figure alcune hanno anche il nimbo crociato sì crociato no il nimbo un'aureola altri non ce l'hanno che indicano verso l'alto dove c'è un uomo con la barba appoggiato non si sa che cosa e questo dentro questo cerchio sotto ci sono delle ali con gli occhi delle ruote e degli angeli vi ho fatto una lettura pre-iconografica velocissima cosa sarà è una delle prime prime immagini che uniscono due eventi l'ascesa di Gesù e il dono dello Spirito Santo la Pentecoste mettono insieme due eventi Cristo che sale con gli angeli in questo carro con le ali con gli occhi e sotto la Madonna che in attesa orante con i discepoli riceve il dono dello Spirito Santo facciamo uno zoom sull'immagine di sinistra dove non c'è Maria la differenza fra i due tipi di iconografie è trovare o meno la Madonna se non c'è è perché già i dodici investiti di Spirito Santo rappresentano la Chiesa quindi avere Maria è un di più è un motivo simbolico Maria era presente quindi se la troviamo come in questo caso l'iconografo ha scelto una linea storica c'è scritto negli atti che allora io metto la Madonna anche se non la mettiamo è perché quei dodici raffigurando con il dono dello Spirito la Chiesa vogliamo dare il significato più simbolico quindi Maria sarebbe un doppione e non la inseriamo essi stessi sono la Chiesa quelle figure al centro sono i popoli battezzati e salvati cioè raggiunti dal messaggio dello Spirito Santo tramite quegli apostoli che ricevendo quel dono hanno avuto il coraggio di non rimanere più nascosti ma di uscire ci sono anche delle figure qui un uomo nero sono quelli che sono stati salvati e sotto infatti le figure dei profeti antico nuovo testamento che uniscono perché questa è una festa dello Shavuot credo comunque d'ebraica che poi è diventata della Pentecoste del dono un particolare che potrebbe sfuggire e ve l'ho sottolineato con questi due colori si trova nelle mani degli apostoli alcuni infatti hanno un rotolo e gli altri dove c'è il riquadro verde hanno un libro il rotolo è simbolo della predicazione cioè dell'andare dell'annunciare dell'affidare il libro invece è il contenuto di quella predicazione che è stato fissato direte che cosa banale banale non è la dottrina è una cosa sicura ferma scritta che col tempo diventerà scritta per non perderla si basa cioè su un qualche cosa di sicuro infatti il nostro diritto è un diritto romano cioè positivo la legge è qualcosa che salva si dice non è affidata alla mia idea di oggi che mi sveglio bene o domani che mi sveglio male e quindi tolgo aggiungo ma è il depositum fidei cioè qualcosa che a cui io faccio riferimento per andare a predicare io predico quella cosa lì non un'altra in altre iconografie dove sempre non c'è la Madonna però compaiono non i popoli salvati ma questa figura di un vecchio con una corona che ha nelle mani questo fazzoletto e se avete l'occhio lungo ci sono anche queste divisioni sono 12 rotoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 di qui e 6 di qua le 12 tribù dei figli di Israele questo è il vecchio re il vecchio re sostiene questo drappo con i popoli del mondo che hanno ricevuto l'annuncio salvifico prima faceva riferimento all'imperatore di Bisanzio che ha permesso la predicazione proprio foraggiando andando nel mondo permettendo il sostentamento poi perdendo la connessione con il re l'imperatore di Bisanzio è diventato colui che è il benefattore della missione vera e sa stessa quindi alla lunga diventa lo stesso Dio che permette agli apostoli di andare nel mondo sostenendoli con la provvidenza che è il vero motore questa è un'altra dove c'è sempre il vecchio re quindi possiamo trovare o i popoli piccolini salvati oppure questa figura che prima era storica faceva riferimento all'imperatore poi fa riferimento alla provvidenza di Dio un Dio vecchio tipico l'altra iconografia era questa con la Madonna presente vi ho detto che è una iconografia storica leggendo gli ati degli apostoli troviamo la presenza di Maria questo Cristo che viene portato su un carro è accompagnato dagli evangelisti quasi si può dividere in due questa pagina istoriata e la mano di Gesù che benedice è una mano in questo segno è una mano che anche offre nello stesso tempo lo Spirito Santo noi cosa abbiamo in diocesi di relativo e di bello come Spirito Santo da portare eventualmente da vedere in San Francesco c'è questo affresco del romanino quindi siamo ai primi del 1500 lui sceglie un'iconografia storico-simbolica storica legata cioè al libro degli atti la Madonna è in attesa in preghiera con non solo gli apostoli ma anche i popoli raggiunti già dall'annuncio degli apostoli quindi c'è un allargamento di quel consesso di quegli apostoli seduti in quel famoso tavolo aù e la Pentecoste che un po' toglie scalza quella famosa babele che c'è sempre questo rapporto tra la babele dove i popoli vengono dispersi erano orgogliosi e la Pentecoste dove tutti i popoli vengono riuniti in uno vorrei che notaste un'ultima cosa su questa opera di un primissimo romanino non è conservata molto bene purtroppo sono le mani di Maria queste mani conserte al petto hanno un preciso valore li troviamo come prime testimonianze nei sarcofagi egizi significano l'abbandono sotto missione totale a uno più grande di me anche San Giuseppe lo sposo di Maria in alcune iconografie della natività ha le stesse mani guardando il bimbo nato piega la schiena e pone le mani in questo modo per dire io mi abbandono a te iconografia più vincente dove troviamo le mani di Maria racchiuse in questo modo quale sarà? vediamo provate a pensarci vi ho detto che significano sotto missione totale alla volontà di Dio vedete? ma questi giochini che faccio ogni tanto fateli anche con i ragazzi per ripassare i misteri io a volte mi diverto a scegliere alcune immagini alla fine di ogni non so modulo per esempio ascensione rispetto alla trasfigurazione sono molto simili ma in una gli apostoli c'erano nell'altra non tutti ce ne erano solo tre sembra sempre il Cristo che sale ma non è lo stesso mistero questa è un'altra Pentecoste in che anni saremo sparatemi un secolo secondo voi è antica moderna sembra il secolo scorso vero? qualcuno diceva antica il modo che ha questo pittore ha dallo straordinario perché ci imbroglia è del 1600 è il greco sembra anche io quando l'ho vista dicevo mamma mia 1900 quando si cominciano a fare queste opere un po' visionarie quasi surreali con questo sfondo questa è l'immagine intera mi piace perché la Madonna veste come Cristo con questi due colori che prima vi ho detto si trova al Prado a Madrid confrontata con il Cristo di Monreale i due i due colori tipici di Gesù vengono usati da lui e ribattuti su Maria Maria è colei che ha assunto dicendo di sì a Dio permettendo la nascita di Cristo l'ultimo sacramento e su questo ci soffrimiamo un poco di più è l'Eucaristia perché è il più ricco da quello partono tutti gli altri ed è per questo che l'autore visto all'inizio pone l'Eucaristia al centro fonte dice la liturgia i testi conciliari e culmine punto di partenza e punto di arrivo se manca uno dei due perché potrebbe essere punto di partenza o meglio punto di arrivo punto di partenza ma non mai di arrivo uno l'ha ricevuto e poi ciao diventa questo dall'abbandono purtroppo i termini usati sono diversi ne conosciamo molti ma non tutti per parlare di Eucaristia si è usato frazione del pane e capiamo cos'è cena del Signore ambito protestante Eucaristia termine greco che vuol dire rendimento di grazie messa ma sappiamo da dove deriva il termine messa e l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni ragazzi andiamo a messa non usiamo andiamo all'Eucaristia siete d'accordo? tra questi termini che sono scritti l'unico che usiamo è la messa messa è una parola un verbo latino da mittere cioè mandare mandare in missione la messa è finita andate in pace quindi il comando di Gesù andate nel mondo parte da lì mette insieme il momento dell'ultima cena e della Pentecoste poi c'è sacrificio l'abbiamo visto prima sinassi nessuno di noi usa il termine sinassi vuol dire adunanza riunione liturgica divina liturgia è un termine che usano gli orientali per parlare della stessa cosa anafora vuol dire ripetizione rivivere quello che Cristo ha fatto il giorno la notte dell'ultima cena e dominicum da domenica giorno del domine del signore divertiamoci a guardare un po' di immagini e le immagini avranno tutte a che fare con l'ultima cena con la messa quello che vi vorrei proporre è riconoscere il momento descritto dalla pittura dall'arte come l'arte riesce a scegliere un momento e a tradurlo con i colori perché sono tutte ultime cene ma non tutte dicono la stessa cosa e vedrete anche perché qual è il momento principale in questo in questo quadro riusciamo a distinguere la prospettiva geografica dalla prospettiva che si chiama teologica quella geografica è facile che tipo di tavola è quella dipinta è una tavola che pone gli apostoli tutti vicino o a cerchio qui è più a cerchio l'aspetto quello di comunione se guardate quella dopo non è più così questa siamo nel 1200 questa è molto prima almeno 600 anni prima come mai torniamo a questa prospettiva geografica messa come unità prospettiva teologica qual è il momento il punto centrale Cristo dà un boccone allunga la mano verso un personaggio che dà le spalle a noi ma è in primo piano il momento esatto è no è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò qui è riproposta la risposta di Gesù che sta allungando la mano dicendo chi è colui che lo tradisce gli altri cosa fanno assistono fermandosi qualcuno aveva già portato il proprio bicchierino l'altro questo qua stava già tagliando il suo pezzo di pane questo stava quasi imboccandosi per mangiare ma si blocca vedete sono tutti fermi nel momento in cui Cristo rivela chi è il traditore qui le cose cambiano la prospettiva geografica è cambiata il tavolo non è più rotondo è un tavolo all'antica sui triclini dove si mangiava così il posto d'onore è occupato da Cristo a un lato qui a sinistra gli altri sono tutti stretti attorno ma uno però pone le gambe fuori rispetto agli altri apostoli l'ultimo non sappiamo ancora chi sia ecco che funziona pone le sue gambe fuori rispetto agli altri il momento geografico geografico diciamo così la tavola antica è un momento di comunione ma anche di abbandono Cristo sta dando la sua vita prospettiva teologica vicino a Gesù uno con i capelli grigi lo guarda contiamoli uno uno due lo guardano questi lo stanno guardando quindi i primi guardano lui questi stretti come un mazzo di carte da scala 40 uno due tre quattro cinque sei sette guardano questo il secondo si nasconde questo è caratterizzato da un colore di capelli come questo gli altri sono tutti uguali e la mano di Pietro che va verso questa parte quindi Gesù ha dato anche qui una risposta perché abbiamo visto che molti tra questi guardano direttamente Giuda quindi questo ultimo è Giuda potremmo ipotizzare che Gesù abbia appena detto colui che intinge con me la mano nel piatto colui mi tradirà siamo nella basilica di Santa Pollinare una basilica che prima era ariana poi è stata convertita al culto cristiano sulla mensa ci sono solo due pesci e poi un po' di panini a forma triangolare che sono ben cotti perché sono anche ben colorati Gesù lo riconosciamo anche perché ha un nimbo questa volta crociato un'aureola che ha all'interno una croce gemmata però nella stessa basilica Gesù lo vediamo anche senza barba quindi quando vi capiterà di vedere un Cristo con la barba è un Cristo storico reale senza barba è un Cristo apocalittico cioè extra storia dove non è più segnato dagli anni ma è un giovane eterno tornare come bambini quasi questa è la direzione che ci aiuta ad essere più precisi ancora nel dire qual è il momento esatto il momento teologico sono forse io gli dice Giuda tu l'hai detto e molti dei discepoli in parte a lui si girano lo guardano quello che emerge ora di rosso potremmo tra tutti gli unici che potremmo riconoscere sono lui e l'altro Pietro e il fratello di Pietro Andrea Andrea avrà sempre questa zazzara di capelli Pietro un po' di capelli li perderà però nella stessa basilica li troviamo sempre distinti bene l'arte riesce ad aiutarci a dire chi sono tutti voi sapete che la parola Cristo è giocata sull'acronimo acrostico cioè di Ictus se unisci dice Agostino le prime lettere delle cinque parole greche che significano Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore risulterà Ictus cioè pesce è il nome con cui si intende simbolicamente Cristo perché ha potuto rimanere vivo cioè senza peccato nell'abisso della condizione mortale come nella profondità delle acque Rossano Calabro un codice purpureo anche qui troviamo un'immagine di ultima cena come prima in Santa Pollinare in quel mosaico anche qui la prospettiva geografica è antica con questa tavola antica dove si diceva Gesù ha mangiato tot anni fa tot mila anni fa le cene erano fatte così quindi facciamo l'ultima cena così Leonardo o prima Duccio di Boninsegna la prima immagine che vi ho mostrato era sua hanno cambiato la prospettiva ma perché il problema è sotto antropologico qui è storico le cene erano fatte così quindi anche Gesù presumibilmente avrà mangiato così un po' sdraiato con i suoi discepoli qual è il momento teologico? Gesù è riconoscibile Pietro e Andrea Pietro non ha più i capelli Andrea ha la zazzera qui gli altri se questo non allungasse la mano non potremmo riconoscere che è Giuda grazie a quel gesto sappiamo che Gesù sta rispondendo è colui che intinge la mano nel piatto quello mi tradirà quindi qui il traditore si svela in diretta allunga la mano tra tutti l'unico che non guarda Gesù è proprio lui quindi gli altri in parte non si scandalizzano sono presi da Gesù e guardano Gesù l'unico che non lo guarda è proprio Giuda qui vedete un po' meglio non ci sono pani e pesci c'è un unico calice c'è già un cambio anche qui perché unica sola è l'unico solo è il calice che gira questo è il mio sangue questo è il mio corpo un particolare che potrebbe sfuggirci è dato dai volatili dipinti sotto c'è un salmo che parla di liberazione noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori il laccio si è spezzato e noi siamo salvati il salmo 124 l'eucaristia la messa ci ha liberati dal laccio del cacciatore del demonio ha spezzato il gioco ci permette di tornare a casa potremmo dire non siamo più schiavi anche se segnati dal peccato non siamo più schiavi ma a Modena dove all'esterno troviamo questi bassorilievi di viligelmo dentro c'è questo pontile molto molto curioso che ha diverse scene la lavanda dei piedi e poi c'è questa cena come un parapetto dove la prospettiva geografica non è più all'antica ma è simile a quella che abbiamo noi in mente per esempio di Leonardo che ha fatto scuola quindi quella diventerà la tipica cena di Cristo Gesù sta imboccando qualcuno sappiamo che è Giuda perché le scritte sono chiare guardate le mani di Giuda che tengono un pesce vi ricordavo prima la parola pesce che vuol dire Cristo Giuda impugna Cristo crede cioè di averlo in pugno perché infatti lo venderà ci si diverte di più quando con i ragazzi o con i genitori si e non ho tempo di farlo mostrando questa immagine la si fa vedere con calma si fanno i nomi chi fa cosa perché poi sono a coppie vedete che parlano due a due riuscite a vedere che il dialogo è tra ognuno tra i due Giovanni è l'unico che reclina il capo ma però il dialogo è fatto così quindi Giuda ha in mano un pesce mentre riceve il corpo di Cristo riceve lui un altro che ha in mano il pesce è Pietro se Giuda crede di avere in pugno Gesù ma in realtà lo perderà Pietro no Pietro non ha in pugno Gesù lo ha anche rinnegato ma lo riceverà in modo pieno quando Pietro mi ami tu pasci le mie pecorelle diventerà lui il capostipite della chiesa della prima chiesa altro elemento chi mangia in questa cena Giuda perché viene imboccato e un altro è non leggete il nome ma Matteus entrambi avevano a che fare con i soldi Pietro scusate Giuda perché teneva la cassa e Matteo perché era un pubblicano quello che ha ridato i poveri se Giuda vende Gesù per 30 denari Matteo vende tutto per Gesù e lo segue non sono particolari messi a caso torniamo a quel boccone secondo il galateo orientale imboccare qualcuno che a noi sembra una cosa brutta era un gesto di particolare cura per lui Gesù tenta il tutto e per tutto non negandosi a Giuda fino all'ultimo tenta di toccargli il cuore colpisce anche poi quel termine che viene dato al boccone intinto che ha a che fare con batto battesimo intinto è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò a che fare con quella realtà faccio un collegamento anche qui Gesù sta imboccando Giuda mentre Giuda ha in mano un pesce però questa volta lo nasconde viene un po' scoperto perché un apostolo un discepolo meglio qui lo indica le sue vere intenzioni non sono quelle di essere bravo di fare la comunione ma sono quelle nascoste dietro il furto qui è evidente no? ma nella stessa cattedrale vedete anche questa strana immagine di un uomo che ha a che fare con un volatile che gli strappa la lingua e lo metto in collegamento con la comunione che Gesù fa a Giuda e vi chiedo sarà davvero la comunione che Gesù fa a Giuda o il tentativo di strappare la lingua a Giuda cioè la menzogna perché questa è l'allegoria della menzogna un volatile quindi il motivo è questo animale che vive staccato da terra quindi vicino ai cieli è la verità che strappa all'uomo la lingua questo autore napoletano la verità strappa la lingua alla menzogna la verità è una donna giovane che strappa a una vecchia la menzogna quindi la lingua lunga guarda che bella che l'è cioè è vecchia quindi ha accumulato più menzogna rispetto alla giovinezza ma la giovinezza non solo come età ma il fatto che la verità non ha tempo è interessante perciò provare a leggere il tentativo che Gesù fa visto che nella stessa cattedrale c'è quella iconografia lì quell'allegoria di strappare la menzogna a Giuda nella lastra successiva alla ultima cena vedete che lo stesso Giuda che sta per baciare Gesù primo si è anche imbruttito poi non ha più neanche l'aureola ha perso la santità ha già venduto il suo Gesù e per fare per dare spezzare una lancia in favore della falsità di Giuda nelle sue intenzioni qui vedete che pone la mano per ricevere il corpo di Cristo mentre le sue intenzioni sono altre dietro di lui c'è un mostro pronto a divorarlo però la mano non è la destra la mano con la quale Giuda presenta che Giuda presenta a Gesù non è la sinistra quindi una volta avevano questa attenzione quasi lenticolare nei particolari nel dire mano x y che si vede un po' meglio vedete sostiene la sinistra con la destra oppure in questa ultima cena di Cosimo Rosselli siamo sempre nella cappella Sistina Giuda ha sulle spalle un diavoletto pronto a entrare in lui o come qui sempre in questa ipotesi di comunione o di strappare la menzogna a Giuda nel dare il boccone il testo dice e subito Satana entrò in lui quindi il pittore cosa fa? ti dipinge un satanasso un demonietto l'ultima immagine che analizziamo è proprio quella dell'ultima cena e su questo ti dedico 30 immagini gli ultimi sì non c'è problema giusto? un quarto alle 10 io per le 10 vorrei finire va bene inquadro inquadro un attimo Leonardo Leonardo arriva a Milano negli anni 80 del 400 chiamato da Ludovico il Moro e vi resterà fino al 1499 tra i lavori che vengono richiesti da Leonardo c'è questo quello della mausoleo di famiglia perché Ludovico il Moro voleva trasformare Santa Maria delle Grazie in mausoleo di famiglia questa è Santa Maria delle Grazie conosciuta perché l'architetto Bramante e lo vediamo ancora perché la fortuna degli architetti è quella di mostrarci ancora oggi il loro lavoro i pittori come magari Leonardo che hanno un po' sperimentato la pittura molte cose si sono perdute anche perché facevano presto una volta toglievano una fresco o lo coprivano e si cambiava gusto e si cambiava pittura nel refettorio di questo complesso troviamo il lavoro l'opera di Leonardo vedete in fondo l'ultima cena che è stata rovinata perché poi hanno aperto questa porta nel 1500 e hanno tagliato qui sotto i piedi di Gesù mentre gli altri hanno i piedi lui non li ha più ci lavora tra il 93 e il 94 diciamo due anni il priore non ne poteva più Leonardo era un uomo che vi ho detto sperimentava e si fermava anche ore a guardare il muro con magari qualche segno dicendo cosa posso fare adesso c'è una leggenda che dice che poi Leonardo talmente stufo abbia deciso di dipingere il volto del priore in quello di Giuda non ci sono fotografie per dire che è così quindi l'abate il priore era impaziente Leonardo perso nella sua filosofia che diceva bisogna riuscire a dipingere anche l'aria pensate gli faceva gli faceva ansia immagini del bombardamento degli anni 40 a Milano hanno salvato la crocifissione proprio in fondo all'aula del refettorio e anche l'ultima cena si sono salvate nonostante la tecnica che Leonardo ha usato fosse una tecnica che non permetteva il mantenimento preciso dell'affresco veniamo alla lettura arte e fede momento prospettiva geografica ormai siete esperti è all'antica o moderna è un tavolo a sigma come mangiavano i romani no quindi non gli importa dire come avesse mangiato anticamente Gesù andiamo oltre vuole sottolineare un aspetto più simbolico quello di unione di quei dodici che formeranno la prima chiesa una compattezza una vicinanza di comunione prospettiva teologica qual è il momento esatto che Leonardo sceglie questo lo saprete di sicuro Leonardo sceglie per dipingere l'ultima cena la famosa affermazione che Gesù fa uno di voi mi tradirà e a questa affermazione come dal punto centrale vedetelo come una cosa che viene per rimbalzo parte da Cristo e va da una parte dall'altra c'è un movimento e un'ansia collettiva un turbamento collettivo l'intensità che Leonardo riesce a imprimere nei personaggi è questa una cosa straordinaria perché da lì dal centro poi verso l'esterno dall'esterno ritorna al centro e potremmo rileggerlo più e più volte il modello che Leonardo ha usato non ha inventato è stato preso dal ghirlandaio a Firenze nella chiesa di ogni santi che è questa che vedete però Leonardo l'ha totalmente superato guardate che questa è più statica potremmo dire così questa è più dinamica Gesù cosa fa non guarda nessuno non guarda i dodici e non guarda neanche noi la sua bocca è dipinta in un momento preciso quasi come se stessi dicendo l'ultima vocale della sua frase uno di voi mi tradirà fermo lì ogni cosa che in questo dipinto vi dirò è voluta è stata voluta così da Leonardo tutto ha un preciso motivo dispone i discepoli in quattro gruppi per tre tre qui primo gruppo secondo terzo quarto e ogni gruppo ha un nome preciso dovevamo riconoscere tutti i personaggi dai gesti che fanno proviamoci questa è una scansione che viene chiamata ritmica e anche musicale perché questa onda che parte da Gesù va si propaga agli estremi e torna al centro avete presente quando si butta un sasso nell'acqua questo crea cerchi concentrici ecco paradossalmente il oddio il pane eucaristico è quel sasso che gettato dentro di noi esige di uscire e di arrivare ai confini quella la bocca di Gesù che veste i colori di prima i colori tipici di Cristo sono il blu e l'azzurro eh sì rosso erano stessi colori blu e azzurro questi i quattro gruppi così sono più chiari e partiamo facendovi notare come Giovanni veste anche i colori tipici simili a quelli di Gesù blu non tanto un rosso ma quanto un rosa le sue mani che vi ho evidenziato sono giunte e sono simbolo di afflizione e di tristezza anche il suo modo di reclinare il capo sono simbolo di afflizione e tristezza cioè ha già capito tutto anche se si appoggia prima Pietro lo attira a sé quindi questo primo gruppo troviamo Giacomo sì scusate Giovanni Pietro e questo sarà Giuda vedremo anche perché è anche più scuro si sposta quasi per creare più distanza tra lui e Gesù il movimento che Giovanni fa è questo Pietro lo avvicina gli dice di di al maestro chi è colui che ti tradirà e poi immaginiamoci che Giovanni da lì si sposterà verso il cuore di Gesù quindi Pietro gli suggerisce di chiedere chi è Giovanni che abbandona gli occhi per dire ma io so già chi è ho già capito chi è davanti a noi abbiamo Giuda molto scuro rispetto agli altri personaggi come mai nel tempo è stato detto che questa figura sembrerebbe una donna l'avete sentito anche voi questa accusa ma in realtà perché Giovanni è il discepolo prediletto che ha capito che per entrare nel rinno dei cieli occorre tornare come bambini è il bambino Leonardo dipinge Giovanni nelle fattezze giovanili più giovanili che può e questo l'ha fatto scambiare per una donna ma non è una donna ha i capelli lunghi ma non è una donna quindi queste le mani questo è il gruppo che mi interessava il primo gruppo vicino a Gesù chi ha in mano questo coltello Pietro Pietro ha nelle mani un coltello che preme minaccioso ma anche inconsapevole alle spalle di Giuda contro la schiena di Giuda Gesù non ha ancora risposto teniamo conto che ha solo detto uno di voi mi tradirà non ha detto sei tu Giovanni l'ha capito perché leggeva nel cuore di Cristo ma Pietro non ha ancora sentito che era Giuda Giuda intanto sentendo che uno di loro l'avrebbe tradito si allontana vi dicevo come per creare più distanza tra lui e il maestro se le mani di Pietro hanno in mano un coltello quelle di Giuda hanno in mano la sacchetta con i soldi però purtroppo da questo affresco che è molto rovinato anche se restaurato non si vede un'altra cosa che Giuda fa qui ve l'hanno detta si riesce a capire cosa fa tramite le copie dell'epoca questa è una copia che mostra in modo evidente si vedono anche meglio le mani di Giovanni che rovescia il sale questo tema del sale rovesciato che è arrivato a noi come presagio di sfortuna a buttarvi al sale ha a che fare con il perdere il sapore Gesù disse ma se il sale perdesse il sapore e voi siete sale della terra cosa a cosa servirà un sale che non sa di niente ad essere gettato via Giuda è quella cosa lì ha perso il sale si sta buttando via quindi serve ad essere solo calpestato dagli altri guardiamo ancora la sinistra di Gesù quindi all'altro gruppo vicino a lui a questo quindi analizziamo l'altro gruppetto troviamo Giacomo il maggiore Tommaso e Filippo eccoli qua Tommaso Giacomo il maggiore Filippo Giacomo il fratello di Giovanni che erano detti Boanerges i figli del tuono e che la madre voleva che sedessero l'uno Giovanni e Giacomo infatti dove li ha messi Leonardo uno a destra e uno a sinistra proprio seduti accanto a Cristo allarga le braccia è quello vestito di verde in impeto forma una croce aprendo queste mani forma una croce e dice in fondo il martirio lui sarà il primo a dar la vita per Cristo e lo leggiamo nel libro degli atti in quel tempo il re Rode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo il primo che dà la vita quello che punta il dito in alto un po' riccioluto con la barbetta in avanti alle spalle di Giacomo è Tommaso con il dito in alto il suo gesto qui assume una sfumatura però sembra fare una domanda Tommaso è quello delle domande quello che non crede però si fa presto a dire è Tommaso Tommaso però mettetevi nei suoi panni gli altri hanno visto e come si dice se vuole vedere la può a me quando dice ma se non vedo non credo se non metto il dito vi dicevo una sfumatura perché dice ma solo uno ti tradirà Leonardo è fine questo dito in alto che sembra chiedere io vorrei sapere vorrei capire potremmo leggerlo anche con una domanda sottilissima questo dito ma solo uno uno di voi mi tradirà solo uno non è così infatti sappiamo che non fu solo uno tecnicamente a tradirlo e sembra chiamare testimone il cielo con questo indice puntato nel mentre uno apre le braccia e l'altro sembra dire sembra chiedere si alza in piedi uno che ha la tunica rosacea che ha questo gesto delle mani simile a prima che è Filippo Filippo si pone chiude le mani al petto come a dire Gesù credimi non sono io tu lo sai guarda guarda il mio cuore risponda a quella parola che ha detto Gesù a quella brutta cosa che ha detto uno di voi mi tradirà si sente in causa e con l'umiltà che lo contraddistingue dice no guarda io non lo farò nel contempo le mani messe in questo modo vi avevo detto prima che significano sottomissione abbandono questa è una Maria annunciata anche questa ecco vi ho messo qui meno male il San Giuseppe di Savoldo nel presepe che anche lui si abbandona il Cristo deposto ha compiuto tutta la volontà del padre fino a trovare nei sarcofagi l'abbandono totale alla divinità quello di Leonardo è un dialogo di mani sono le mani che parlano questo è il gruppo di sinistra esterno troviamo Andrea il primo che è il primo calvo apre le mani le mie mani per dire sono pulite sono le mani del fratello di Pietro Pietro e Andrea dietro Andrea c'è Giacomo il minore con questa tunica rosacea e da ultimo Bartolomeo Giacomo il minore era detto il fratello di Gesù molto simile a lui tant'è che Giuda giuda ha dovuto baciare il Cristo perché le guardie non si sbagliassero a prendere Giacomo il minore rispetto a Cristo era talmente simile che Giuda ha baciato Cristo per non far in modo che prendessero uno sbagliato quindi la somiglianza è posta qui anche da Leonardo qui un po' più grande guardatelo vicino al volto di Gesù il naso i capelli la tunica lo stesso rosa chiude la tavola Bartolomeo che è il solo rispetto all'ultimo dall'altra parte ad avere la figura intera si alza in piedi si avvicina come se non avesse capito bene cosa hai detto è bello anche mettere una sorta di fumetti a tutti i personaggi ma anche perché l'apostolo è l'ultimo non messo a caso perché Leonardo sapeva che è l'apostolo che ha raggiunto gli estremi confini della predicazione si è spinto in India e lì morì la martire fissa Gesù guardatelo il volto e qui ve lo vedete in piedi fissa in modo molto forte Gesù Gesù ha detto di lui che è un'israelita in cui non c'è falsità al lato opposto l'ultimo gruppo che si sta facendo si discute non si guarda Gesù almeno a una prima vista nessuno guarda Gesù l'unica cosa diciamo così che guarda Gesù cos'è? le mani le mani riportano quell'onda che si è propagata dal centro la riportano al centro due di loro danno le spalle abbiamo appena detto che le mani riportano e si collegano a Gesù le spalle sì ma non il cuore Matteo è quello che ha una tunica turchese tende le mani verso Gesù dalla sua conversione quelle mani che prima contavano solo soldi ora contano e parlano di lui Matteo è l'autore di un Vangelo quindi lui parlerà ancora oggi testimoniandolo ancora oggi con il volto incorniciato da una folta barba che alcuni avevano interpretato come l'autoritratto di Leonardo abbiamo Taddeo le sue mani sembrano dire io ve l'avevo detto però Leonardo è un italiano fa apposta a far parlare i personaggi con le mani noi quando parliamo gesticoliamo anche per dare tutte le spiegazioni vai di qua vai di là l'ultimo Simona lo zelota il cananeo che sembra dipinto come un filosofo antico in questa tunica rosa un piviale quasi rosace sembra un profeta ha il palmo delle mani rivolto verso l'alto e con lui l'onda che si è propagata dal centro torna a Cristo le mani di Gesù sono diverse una sta per prendere il pane per benedirlo la sua mano destra e la mano sinistra ha il palmo rivolto verso l'alto quindi benedizione distribuzione sono due momenti concentrati in uno mi rendo conto che sono tantissime le cose che vi sto dicendo avete bisogno chi di voi vuole analizzare quest'opera con i ragazzi lo farà in più volte perché se no ci si perde e da qui l'onda riparte provate a rivedere tutti i personaggi con le due dinamiche del benedire distribuire questo è il mio corpo questo è il mio sangue e chiudo con queste immagini perché se vi capiterà di andare in centro nella chiesa di San Giovanni evangelista con i ragazzi vale la pena portarli in fondo entrando in fondo a sinistra nella cappella del Santo Sacramento dove Moretto e Romanino hanno trattato il tema eucaristico giocandosi e quasi lottando l'uno con l'altro per riuscire a dipingere meglio rispetto all'altro sono tutti temi che uniscono l'Antico e il Nuovo Testamento e qui al centro si capisce come nel momento cruciale come il momento della controriforma o riforma cattolica la tipologia vincente dell'ultima cena non è quella vista prima come quella di Leonardo ma è la deposizione e il movimento è questo in alto qui un crocifisso questo Cristo tolto dal crocifisso viene deposto dalla croce e lo vediamo dipinto messo dove nel tabernacolo è un corpo vivo e da questo tabernacolo dove tutti i giorni viene detta messa viene distribuito dall'alto verso il popolo mi fermo qui per ora ancora una volta mi ha visto quante cose si possono cogliere e quanta ricchezza si può fare nostra attraverso l'arte attraverso la sacra scrittura attraverso la fede interessante potrebbe essere quei ragazzi fare un lavoro i fumetti sull'ultima cena dando i testi e poi dicendo loro di dire con dei messaggi che cosa racconta ogni singolo personaggio prendiamoci come ogni volta un attimo di tempo e poi possiamo fare qualche domanda bene c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa chiedere qualcosa Livio è che ti diamo un attimo il microfono se non si sente la registrazione una domandina così ma anche nell'ultima cena di Leonardo i colori hanno il significato naturalmente servono sia a distinguere i personaggi non ve l'ho detto per esempio Matteo non veste a caso questa tunica turchese ma è un abito tipicamente romano vedendolo in modo più vicino ravvicinato si apprezza anche la fattura di certe tuniche rispetto alle altre la sua è un certo tipo di tunica ricca tipica di uno che aveva i soldi il fatto che Giacomo il minore qui in fondo qui il penultimo da sinistra veste una tunica simile a quella di Cristo è perché vi ho detto prima era talmente simile che anche nella tunica che fa vestire queste cose ritornano non sono casuali però la scelta dei dei tessuti richiama la la moda antica dell'epoca si i colori di Cristo sono ratificati come quelli di Pietro che qui vediamo con un blu e giallo sono i suoi colori San Pietro veste il giallo e il blu Giuda ha un verde e blu qui non posso ingrandire perché questo pezzo sulla spalla sinistra è verdaceo verdastro cambia si sposta non è prezzi powerpoint non permette eh sì anche questo è una prospettiva teologica si dice perché è l'apertura per andare verso è già la missione aperta al mondo quindi il luogo chiuso a livello storico dell'ultima cena nel cenacolo che è un posto una stanza chiusa viene sfondata da Leonardo per la sua Leonardo amava l'aria anche nella Gioconda fa questo stesso tipo di paesaggio sono paesaggi alla Veneta si dice queste aperture di finestre ma qui essendo un tema particolare come quello sacro non solo bisogna dire che è un amore che lui ha per questo tipo di pittura ma anche per aprire il messaggio evangelico al mondo andate in tutto il mondo ci sono tanti panini molte cose non ve le ho dette non c'è un solo calice non c'è un solo pane ciascuno ha pure bicchieri panini spezzati divisi ce ne sono tanti la tavola la tovaglia annodata qui in fondo la decorazione come se fosse un tallit ebraico con queste frange e colori azzurrati degli ebrei che mettevano sulla testa nel leggere la scrittura qui c'è un legame forte con la tradizione ebraica insomma è una cena ebraica nel contesto ebraico allora sì è vero non con tutte così però se vogliamo però non essere banali quando guardiamo un'immagine occorre da parte nostra far la fatica di documentarci un pochino ed è possibile farlo si trova tante volte vi suggerisco un motore di ricerca di google scholar s-c-h-o scholar dove inserendo lì termini o frasi escono pdf pronti cioè ciò che google non trova google scholar che utilizzo anche per l'università quando dico agli studenti cercate lì per fare le tese ad esempio si trovano lì libri senza comperarli perché li scarichi e questo è il modo secondo me utile per usare oggi la ricerca però occorre sapere i luoghi giusti è vero ma una volta scoperti io penso che un po' di fatica vada fatta perché se non siamo ricchi noi non scopriamo noi non possiamo dare agli altri non si tratta solo di guardare un'opera e dire mi piace è bella è l'ultima cena vedete che ci ho messo anche poco tempo per parlarne ho fatto un po' in fretta per dirvi un po' tutto ma ci tenevo la ricchezza l'avete intravista però ogni immagine nasconde dietro perché questo è l'arte fa così condensa in qualche colore un libro finirei così l'arte condensa in un'immagine una predica è una predica dipinta dicevano è il crisostomo che suggeriva quando un non credente ti chiede in cosa credi tu portalo nella tua chiesa e spiega gli misteri dipinti questa era la risposta che dava San Giovanni bene ringraziamo Don Valentino grazie ancora vi auguro una buona continuazione del vostro servizio si conclude con questa sera il nostro percorso di incontri di formazione buon tempo della Pasqua buon rientro anche a casa ciao